Buonasera a tutti. Oggi abbiamo effettuato la prima distribuzione di mascherine. Nei giorni scorsi abbiamo purtroppo ricevuto moltissime segnalazioni di persone in giro senza mascherina e quando gli agenti e i volontari hanno avuto occasione di fare controlli e chiedere il motivo dell'assenza della mascherina molte volte si è risposto non ne abbiamo e non se ne trovano. Per questo motivo con protezione civile a WPS abbiamo deciso di dedicare tre mezza giornate ad una distribuzione massiccia sul territorio per permettere a tutti quelli che non avevano mascherina di procurarsene rapidamente una. Come tanti di voi non hanno mancato di notare questo sistema richiedeva molta collaborazione e correttezza da parte dei cittadini. Ecco devo ringraziare per questo le persone che hanno collaborato mantenendo ordine e distanze e devo ringraziare i volontari che hanno permesso di svolgere queste operazioni con estrema rapidità consentendo il rigoroso rispetto delle distanze. Domattina sono previsti cinque punti di distribuzione dalle 11 alle 12 e 30 in via del Molinetto presso il parcheggio del supermercato, in piazza Marconi, a Belasca, in piazza Giordano Bruno, a Ruginello in via Don Lualdi nei pressi della farmacia e a Oreno in via Gramsci presso le poste. Vi prego di adottare le stesse attenzioni di oggi. Recatevi a ritirare la mascherina se non ne avete una o se ne avete solo una che usate da giorni. Evitate di stare vicini agli altri. Il ritiro è molto rapido quindi vi consiglio di non andare in anticipo. Rischiate di dover aspettare volontari e creare assembramento. In tutto oggi abbiamo distribuito circa 2200 mascherine. Vi mercate conta 26.000 abitanti e più di 10.000 famiglie. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione una mascherina a famiglia entro pochi giorni e raggiungere poi l'obiettivo di una mascherina per cittadino. Per questo il Comune sta finanziando l'acquisto di nuove mascherine che abbiamo già ordinato dato che quelle ricevute dalla protezione civile nazionale non sono purtroppo in numero sufficiente. Conto di potervi aggiornare presto sui tempi e sulla modalità di distribuzione delle nuove mascherine che faremo limitando al massimo i vostri spostamenti. Devo poi esprimere un profondo ringraziamento ai medici e ai pediatri per la dedizione e professionalità con cui si sono presi cura di noi. Hanno dovuto operare per settimane con scarsissima protezione e anche per loro quando si è reso necessario il percorso per ottenere un tampone è stato estremamente difficile. Mi metto nei panni di quei medici che non si sono tirati indietro, hanno seguito i loro pazienti e oggi si trovano a scoprire di essere positivi. Vivono ore drammatiche e a volte piene di smarrimento. Grazie ai fondi del comune e alle vostre donazioni li stiamo aiutando. Ieri abbiamo incontrato alcuni dei medici che operano sul nostro comune ed abbiamo distribuito a ciascuno occhiali protettivi, mascherine di diversi tipi, cinque camici, una tuta, guanti, sovrascarpe e gel disinfettante per permettergli di operare con la dovuta protezione. Abbiamo inoltre distribuito i saturimetri che permettono ai medici di seguire in modo più tempestivo i pazienti a rischio, riducendo il numero delle visite e avendo a disposizione parametri immediati. Ne abbiamo ordinati altri che arriveranno nei prossimi giorni per fornire a ciascuno un numero sufficiente di apparecchi. A VPS si sta occupando di fornire le dotazioni ai medici che non erano presenti ieri. Stiamo facendo molto per loro, come loro stanno facendo molto per noi ed a nome loro vi ringrazio per le donazioni che ci aiutano a comprare questi dispositivi. Stasera devo dedicare un pensiero ai nostri concittadini che non hanno superato questa epidemia. I dati ufficiali dicono che in totale 22 cittadini sono deceduti tra i 155 che sono risultati positivi al coronavirus dal 21 febbraio, cui si aggiungono altri che se ne sono andati senza entrare in queste fredde statistiche. Ed è a tutti loro che dedicheremo un momento di raccoglimento nei prossimi giorni. Voglio chiudere ringraziando Caterina e Aurora per il loro bellissimo disegno. Uno splendido arcobaleno pieno di cuoricini per colorare il nostro cielo che ci aspetta appena potremo tornare a giocare tutti insieme. Vi abbraccio. Grazie.